E te che ci stai a fare sul letto mio? E adesso qua ci dormo io. Solamente pane con l'acqua e lo zucchero. Che ci dà il coglianzo? Fa ritorno da casa, eh? Vuoi provare? Guarda dove metto quei bacchetti. Oh, ma che si è uscita? Ciao. Ciao. Accio, ci fai un caffè? Ma perché io non ti piace? Perché sono fascista. Invece lui ti piace perché è comunista. Marco mi piace perché è Marco. Gli amici tuoi vengono incendiare la macchina e te pensi a Francesca. Ma pensa a me, no? Dobbiamo liberarsi. Gli amici tuoi vengono incendiare la macchina. Stanno bene. Ma fa piano! Poi dalla brucia non sta macchina. Gli amici tuoi vengono. Grazie a tutti.